Ciao ragazzi, bentornate nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo, oggi faccio un try on haul, ovvero un video haul in cui vi faccio vedere le cosine che ho acquistato e anche indossate. Sono tutti capi di abbigliamento e sono tutti capi assolutamente low cost, perché sono un amante dello shopping low cost per quanto riguarda l'abbigliamento. Preferisco spendere un po' in più nel make-up, vi dico la verità, che è la mia più grande passione. Di vestiti insomma compro proprio quando mi serve qualcosa, non sono un amante dello shopping per quanto riguarda appunto abbigliamento, ma preferisco appunto investire nel make-up che sia la mia più grande passione ma anche il mio lavoro, quindi preferisco spendere i miei soldi in trucco. Però comunque mi servivano alcune cose e sono andata a fare shopping. Sono tutti, come vi ho detto, capi low cost che ho preso in un unico negozio, eccetto un maglioncino che ho preso invece in un altro negozio e parto proprio da quello. Sono stata in un centro commerciale vicino a dove abito io, non è grandissimo e non ci sono chissà quali marchi, non c'è Bershka, non c'è Stadivarius, insomma ci sono pochissimi negozi e appunto ho preso questo maglione in questo negozio. Vi faccio vedere la busta, forse qualcuno lo conosce. Si chiama così. È un negozio prettamente da uomo, però ha anche un piccolo reparto femminile, infatti ero con mio fratello e dovevo prendere delle cose e ho visto questo maglioncino alla cassa e l'ho preso anche se ho fatto un po' un azzardo perché non l'ho provato, però fortunatamente mi va abbastanza bene, se fosse stato un po' più stretto l'avrei preferito, però è taglia unica, quindi anche volendo non c'è più piccolino, le faccio sapere vedere, logicamente man mano a mano che vi faccio vedere le cose le starete sicuramente vedendo anche indossate. Comunque il primo capo è questo maglione nero lunghissimo, così, e questo maglione lungo nero che io metterò sicuramente come abitino con sotto delle calze coprenti o leg, insomma penso più le calze e da appunto lo scollo a barca e da questo intreccio sulle spalle, molto molto carino. Io non sono una grande fan dello scollo a barca perché non sta mai, insomma, nella posizione giusta, ma tende sempre a salire. Poi io che comunque mi muovo, soprattutto in negozio, trucco, vado avanti e indietro, insomma, non è comodissimo, però mi piaceva tanto e l'ho trovato molto molto pratico e comodo da mettere appunto tutti i giorni e quindi l'ho preso. Questo l'ho pagato solamente, il cartellino dov'è, comunque l'ho pagato, se non erro, 12 euro. Poi sono stata in un altro negozio che io ho conosciuto in realtà su Instagram, seguivo la loro pagina, Instagram si trova sempre in un paese vicino a casa mia, sono una vicina di minuti, 20 minuti da casa, e appunto su Instagram seguivo la loro pagina, c'erano tante cose che mi interessavano e quindi sono andata direttamente in negozio a vedere. Anche questo è un negozio molto molto low cost, i prezzi sono veramente bassi e ho preso, la maggior parte delle cose appunto le ho prese lì. Vendo così, random, dai sacchetti che ho qui intorno alla mia sedia. E la prima cosa che ho preso, cioè che vi faccio vedere, è questa pelliccia, logicamente finitissima, fatta abbastanza lunga, di questo bel grigio. La cosa che mi è piaciuta tantissimo di questa pelliccia è che è morbidissima, cioè veramente, è una pelliccia, non dico costosa, però paragonabile a quelle, che ne so, di Bershka, di H&M, insomma, quella qualità che si può trovare in quei negozi, è veramente morbidissima, calda, e questa l'ho pagata solamente 20 euro. Ho preso poi quest'altro maglione, sempre lungo, questo però a differenza dell'altro, il collo, scusate, fatto più stretto, insomma, collo alto, risvoltato, stretto, e cade anche questo abbastanza lungo, la manica è fatta in questo modo, ha il polsino nella parte finale, non troppo stretto, e anche questo io l'ho preso per indossarlo con le calze di questo bel grigio, non troppo scuro, ma neanche troppo chiaro, una punta di grigio che non avevo, anche perché non sono neanche fan del grigio, però ho cercato di prendere qualcosa che non fosse sempre del solito nero, perché ho l'armato pieno di quasi nero. Poi, altro maglione, questa volta però è più corto, è un maglione classico, cioè diciamo alla lunghezza classica, però è particolare innanzitutto per il colore, perché è di questo bordeaux molto molto carino, e poi è particolare per la manica e il collo, ha questa specie di, non lo so, mi ricordo qui sul collo, e sui polsini e anche sotto, quindi è molto molto carino, e poi mi piace tantissimo il colore, trovo che sta benissimo, sono jeans magari a vita alta, molto molto carino, e anche questo l'ho pagato poco, l'ho pagato solamente 10 euro. Poi, ho preso due jeans, perché mi servivano a dei jeans nuovi, ne ho qualcuno, ma li ho usati talmente tanto che sono da buttare, ho preso il primo, che è questo jeans a vita alta, semplicissimo, blu, l'unica particolarità è questo strappo qui sulla coscia, e di qua invece è un po' più basso, e è semplicissimo, è il classico colore dei jeans, non troppo chiaro, non troppo scuro, cade stretto alla caviglia, insomma, e non ho bisogno neanche di farci la prima, cosa strana, perché tutti i pantani che prende, essendo io molto alta, devo farci sempre, la piega, questo no, e di questo sono i jeans che ho preso, sono molto simili a quelli di prima, però queste non hanno strappi, non hanno nulla, sono semplicissimi, e mi piacciono ancora di più, perché io preferisco i pantaloni semplici, non mi piacciono strappati o cose varie, preferisco così, soprattutto in me non voglio gli strappi, sono un po' inutili, e questo è molto molto simile, sempre a vita alta, dietro è semplicissimo, anche questo, di questo bel colore, sotto è strettissimo, e anche questo l'ho pagato solamente 16 euro, quindi ancora meno rispetto all'altro, elasticizzato anche quello, e comodissimo, quindi l'ho voluto prendere, perché le cose un po' più carine, un po' più particolari, ecco, per uscire, per la sera, per andare a una festa, per capodanno, non lo so, allora, la prima cosa che ho preso, un po' più particolare, aspettate che la chiudo, è questo maioncino, è questo vestitino qui, nero, tutto nero, con tutti questi dettagli dorati, sembrano fiori, fatto così, cade stretto a tubino, come piace a me, la gomma cade stretta, e dietro è molto particolare, perché ha tutta la schiena scoperta, è veramente molto 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 carino, anche questo l'ho pensato con magari uno stivale alto, o un paio di calzini, che belle coprenti, ed è veramente bellissimo, e poi sempre con il vestitino, mi ho preso un altro molto diverso, però questo è di questo bellissimo colore qui, ed è di velluto, non avevo niente di velluto, quindi ho voluto prenderlo, ed è di questo color bordeaux, super natalizio, super tema, col periodo, sia per Natale, sia per Capodanno, ed è fatto, faccio questo bello stretto aderente sui fianchi, non mi piacciono, le preferisco aderenti, ed ha anche le coppe, diciamo già incluse, quindi potete metterlo anche senza reggisino, ed è molto molto carino, è morbidissimo, e questo pagato, non c'è il cartellino, ma meno di 20 euro, sicuramente, quindi buono. Poi ho preso un paio di pantaloni molto particolari, perché sono di questo tessuto, tipo daino, non lo so, di questo color cammello, bellissimo, e sono particolari, perché hanno questa cernina qui, sul sedere, e poi avanti, hanno questi finti bottoni dorati, anche questi, ve, sono aderentissimi, e sotto sono sempre stretti alla tabiglia, sono bellissimi, sono veramente carinissimi, non avevo un paio di pantaloni di questo genere, quindi li ho voluti prendere. Ed infine, come vestito, ho preso quest'altro vestitino qui, sempre in velluto, diciamo, più o meno, questo è sotto lì, ed è molto semplice, in realtà, cade largo questo, rispetto agli altri due, cade un pochettino, cade un po' più morbido, quindi l'ho pensato con un cintupone in vita, e di questo rosa, io non ho niente di rosa, e quindi l'ho voluto prendere, ha il mezzo collo, ed è molto molto carino, questo è abbinato con uno stivale, un decoteo, anche reso un po' più sprottivo, non lo so, con uno stivaletto, insomma, è molto molto versatile, anche questo però, non c'è il cartellino, quindi non so quanto l'ho pagato, però pochissimo, meno di 20 euro, anche questo qui, ed ultimo, penso, ma sono, non è un vestito, insomma, sono delle scarpe, ero indecisa se prenderle o meno, perché penso che sia un modello che non mi sta benissimo, dato che sono comunque, vi faccio andare a vedere, sono questi stivali qui, lunghissimi, lunghissimi veramente, guardate, cioè, quelli che arrivano sopra al ginocchio, a me arriva la metà coscia, praticamente, quindi mi dovrei mettere solo una culotta per lasciar trasparire la pelle, perché altrimenti, se metto anche una gona normale, fa tutto un pezzo, insomma, tra gona e stivale non c'è pelle fuori, insomma, non so se mi sono spiegata, però erano veramente belli, li ho provati, mi piacevano, però io li ho provati con un jeans, quindi non solo li mettono così, e sono questi, hanno il tacco basso, non è altissimo, e questi sono stati indecisi fino alla fine, però, intanto che costavano solamente 20 euro, li ho presi, anche se li mettero poche volte, però, mi piacevano, e quindi ho voluto provare qualcosa di diverso, non sia il solito stivaletto che utilizzo tutti i giorni, e niente, ragazze, quindi con questo vi ho fatto vedere tutte le cose che ho acquistato nell'ultimo periodo, io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia, io come sempre vi mando un grosso bacio e vi do appuntamento al prossimo video, ciao!